Al Mottarone la messa per le vittime della funivia, il giorno della memoria e della richiesta di giustizia. G7 di Stresa, siamo stati in questura nella sala operativa congiunta delle forze dell'ordine di sicurezza. Il terminal intermodale di Domo 2 a Beura sarà oggetto di ampliamento con un investimento da parte di Cargo Beamer. A Domo d'Ossola il Kivenis Club ha dato il suo sostegno al progetto Sport e Inclusione di Alternativa A. Tre giorni di festa da venerdì a domenica alla Lucciola di Villa d'Ossola organizzata dall'Ossola Amici dell'Ugi. La bella stagione di Alziora arricchita dalla promozione in Serie D della squadra di prima divisione. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizie. Da quel 23 maggio del 2021 sono ormai passati tre anni e ricorderete tutti la tragedia della funivia del Mottarone. Oggi quelle vittime sono state ricordate con una messa in vetta. Vediamo. Memoria e giustizia sono le parole risuonate nella piccola chiesa della Madonna della Neve ai piedi della vetta del Mottarone in una mattinata piovosa e quasi invernale. Le ha pronunciate Don Gianluca Villa, il parroco di Stresa, davanti ai familiari delle 14 vittime che hanno vissuto lo strazio della ricorrenza del terzo anniversario da quel giorno e davanti alle autorità presenti. Don Villa ha ricordato il dovere della memoria nel giorno dell'anniversario di un'altra strage, quella di Capaci. Solo una comunità che ricorda è capace di guardare al futuro, ha detto e ha aggiunto. Bisogna dire con chiarezza che quello che è accaduto non è stato il fatto o il destino, ma siamo di fronte a responsabilità umane. Dire di chi sono state queste responsabilità è importante per recuperare la fiducia nelle istituzioni e per ridare speranza anche al Mottarone, alle persone oneste che lavorano qui. E ancora, servirà anche eliminare la mentalità diabolica e superficiale del tanto non succede niente, come in altre tragedie in Italia. La logica della sicurezza deve diventare un imperativo assoluto per tutti. Come ogni anno, presenti alla funzione anche le magistrate che hanno condotto le indagini e chiesto il rinvio a giudizio degli imputati, la procuratrice Olimpia Bossi e la sostituta Laura Carrera. Al termine un commosso messaggio della sindaca Marcella Severino. Ho voluto portare l'abbraccio di tutta la comunità stresiana, tutti i parenti delle vittime e ho detto che fra le tante commemorazioni civili che facciamo come istituzione, questa per noi è quella che sentiamo di più, perché l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle. Che continueremo come amministrazione ad affiancare nel processo i parenti per richiedere giustizia, perché non si può giocare con la vita delle persone. E alla messa c'erano anche i soccorritori, i vigili del fuoco, Croce Rossa, Soccorso Alpino, Protezione Civile che quel giorno sono arrivati nella speranza di riuscire a salvare le vite, anche se purtroppo soltanto il piccolo Eitan è sopravvissuto al tragico schianto. I vigili del fuoco oggi qui come tre anni fa per portare soccorso alle vittime? I vigili del fuoco come sapete istituzionalmente siamo preordinate al soccorso tecnico urgente. Ancora una volta oggi ho voluto essere presente personalmente in questo giorno 23 maggio a testimonianza della nostra presenza, attività costante che abbiamo reso in quei giorni e successivamente. Siamo ancora presenti e impegnati in questa situazione. E siamo a parlare dei lavori del G7 dell'economia che da domani a sabato si svolgeranno a Stresa, evento che pian piano entra nel vivo il punto sul lavoro delle tante forze dell'ordine impiegate per garantire la sicurezza di chi partecipa a questo randevo mondiale. All'interno della questura del VCO Verbagna c'è il cuore di tutte le operazioni di sicurezza legate al G7 di Stresa. Da oggi attiva la sala operativa congiunta dove con il questore Luigi Nappi lavorano insieme le forze di polizia, polizia di Stato, guardia di finanza, carabinieri, la polizia stradale, anche 118 vigili del fuoco, protezione civile e la prefettura. Attraverso quattro grandi monitor con le telecamere collegate dalla polizia scientifica viene monitorata la situazione nelle diverse zone di Stresa nelle quali si svolgono gli eventi. Dalla sala operativa congiunta vengono coordinate tutte le persone impegnate sulla terraferma, sul lago e anche dal cielo con un elicottero della polizia di Stato che sorvola la città. Per il momento tutto si sta svolgendo in modo regolare, il meccanismo approntato sta funzionando. E come potete immaginare è anche importante la copertura mediatica di questo evento di portata internazionale. Si sono infatti accreditati per seguire i lavori circa 200 giornalisti, fotografi, operatori arrivati da 15 paesi diversi. Oltre alla stampa italiana con 90 giornalisti, particolarmente numerosa la presenza di inviati giapponesi e tedeschi. Nel pomeriggio il ministro dell'economia, il ministro italiano Giancarlo Giorgetti, che stiamo vedendo proprio in queste immagini, è stato impegnato in un incontro bilaterale con il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Ellen. E vediamo appunto le immagini di questo momento di incontro di Giorgetti con il segretario del Tesoro americano. Un momento prima uno scambio di saluti, poi invece i lavori sono entrati nella vivo, come vediamo dalle immagini. È un evento simile, quindi rimaniamo ancora a Stresa. Non può che non avere anche elementi di colore. Allora andiamo a Stresa. Blindata una parte della città di Stresa, da oggi è scattata la zona rossa per il G7 dell'economia nel tratto di Lungolago tra l'hotel Desilborromè, che ospita i lavori, e il Regina Palace, dove trova spazio l'area per i media, che arrivano da tutto il mondo per documentare il meeting. Zona gialla, con accesso riservato ai residenti, a monte dello stesso tratto. Le delegazioni dei paesi del G7 sono arrivate e invitate anche Mauritania, Brasile, India, Repubblica di Corea, Arabia Saudita. Atteso pure il ministro delle Finanze ucraino. Poca la gente in giro nella giornata di oggi, anche nel centro storico, che lo ricordiamo, è a libero accesso. Importante invece il presidio delle forze dell'ordine, nelle zone rossa e gialla, ai checkpoint di accesso, nel centro storico, nelle aree sensibili, come quella della stazione. Ricordiamo che il traffico sulla litorania è garantito con una piccola deviazione. Non sono stati registrati problemi su questo fronte, solo qualche piccolo rallentamento causato dal transito e dalla manovra dei pullman. Oggi per gli ospiti, mini crociera alla volta di Santa Caterina del Sasso e cena di gala all'isola dei Pescatori. Domani e dopo i lavori di questo G7. Venerdì mattina il benvenuto ufficiale alle delegazioni e la foto di gruppo lavori all'hotel Desilborromè dalle 9.15 alle 17.30. Tra i temi di questa prima giornata, di tavoli, il futuro dell'economia globale, l'intelligenza artificiale, i paesi più vulnerabili, le iniziative per lo sviluppo. Al termine visita e concerto all'isola Bella. Una curiosità accanto alla zona rossa interdetto al pubblico anche il piazzale dell'imbarcadero di Stresa che in occasione del G7 ospita i mezzi delle forze dell'ordine e decine di maserati che sono a disposizione degli ospiti del meeting per i loro spostamenti. Ora ci spostiamo in Ossola, andiamo allo scalo ferroviario di Domo 2. Cargo Beamer è l'ultima società in ordine di tempo arrivata a Beura per sviluppare la sua attività di trasporto intermodale. In queste ore è annunciato un investimento corposo, 40 milioni di euro proprio a Domo 2. I fondi fanno parte di un pacchetto più ampio, 140 milioni raccolti dalla società tedesca, tra soggetti pubblici e privati. Sentiamo. Cargo Beamer è l'ultimo attore arrivato a Domo 2. Un investimento importante. A che punto è? Allora, Cargo Beamer è vero, è l'ultimo arrivato a Domo 2. L'investimento è in fase di decollo. Siamo ancora in attesa di autorizzazioni per poter costruire questo benedetto terminal. È di dominio comune che la Confederazione Svizzera ci ha autorizzato un investimento di 40 milioni di franchi, 38 milioni e 700 mila franchi, per un investimento totale di circa 70 milioni di franchi svizzeri. Stiamo aspettando le autorizzazioni edilizie. Al momento lavorate come? Al momento lavoriamo sulla parte già esistente dello scalo, quello che era l'ex cross rail. Abbiamo un'area di circa 75 mila metri quadri. Facciamo 20 treni settimana in direzione nord e altrettanti in direzione sud. A livello di investimento di mano d'opera? A livello di investimento di mano d'opera, ovviamente, dovendo sviluppare un terminal di circa 250 mila metri quadri, abbiamo una prospettiva di crescita anche proprio importante come risorse umane. Già adesso noi occupiamo circa una ventina di persone al terminal e abbiamo sette dipendenti in ufficio. Domo 2 per voi è strategico? È assolutamente strategico. Per noi la scelta di Domo 2 è stata ben ponderata. È nata dalla collaborazione che abbiamo avuto già nello scalo di Domo 2 con altri operatori presenti nel terminal, ragione per cui il successo di Domo 2 ci ha poi spinto a investire cifre di questo genere. Il vostro mercato? Il nostro mercato è Italia verso Europa e viceversa. In questo momento, diciamo, la grande parte è Italia, Germania e Benelux. Abbiamo idea di aprire anche delle rotte sulla Francia, su altri paesi europei. E proseguono i controlli dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza ai confini Italo-Svizzera, rifinalizzati al contrasto del contrabbando, della contraffazione al traffico illecito di valuta. Nei controlli sono impiegati anche i cosiddetti cash dog della finanza. Il maggior flusso di passeggeri in occasione della recente festività dell'ascensione e poi della Pentecoste ha indotto ad aumentare i controlli presso i valichi alpini stradali di Iselle, di Trasquera, Piaggio Valmara, quelli ferroviari, la linea passeggeri, i domodossola, Briga e i treni in navetta che arrivano dalla Galleria del Sempione. Sono stati rilevati sette sequestri di sostanze stupefacenti, hashish, marijuana, olio di cannabis e cocaina anche penalmente rilevanti, due violazioni valutarie, mentre un cittadino extracomunitario è stato fermato presso la ferrovia di Iselle durante i controlli sui treni in navetta con 60 confezioni di profumo di marchi prestigiosi, superalcolici, materiale elettronico per telefonia occultato all'interno della autovettura. Ed ora invece andiamo nel Cuseo per parlare di un progetto lanciato dall'Unione Montana. Sentiamo di cosa si tratta. Portare lo sport al centro del territorio dell'Unione Montana Cuseo-Mottarone è l'obiettivo dell'ente e dei cinque comuni che ne fanno parte Omenia, Casale, Gravellona, Baveno e Stresa. E così è nata l'idea di un questionario rivolto agli atleti e dalle loro famiglie che può essere scaricato e compilato online dal sito dell'Unione in un'apposita sezione dedicata al progetto. Il questionario contiene una serie di domande di carattere generale sulle attività sportive praticate, sulla frequenza e poi entra nel dettaglio con richieste più specifiche per avere un feedback diretto relativo alle criticità che ci sono legate alle strutture, all'offerta sportiva, ai servizi ad essa connessa come mezzi di trasporto, parcheggi. Interessante è anche il focus dedicato all'area outdoor a fianco del Palacipir con una serie di proposte per il suo possibile utilizzo. Ci sono varie ipotesi e chi risponde a questionario ne deve scegliere un paio. Il questionario sarà online fino al 31 di maggio, dopodiché la fase 2 sarà quella dell'analisi delle risposte e dell'individuazione di una strategia comune per migliorare offerta sportiva e per pensare ad investimenti in strutture. Da domani fino a domenica l'area feste della Lucciola e siamo a Villa d'Ossola, ospita un evento organizzato dall'associazione Ossola Amica del Lugi, una tra i giorni che pone al centro i bimbi ma anche le famiglie e cosa più importante è che il ricavato di tutti questi tre giorni di festa andrà a finanziare i progetti proprio di Ossola Amica del Lugi. Ossola Amica del Lugi in festa all'area feste della Lucciola, tre giorni all'insegna della solidarietà e dell'inclusione. Sì, sono tre giorni la nostra festa che ogni anno facciamo, Ossola Amica del Lugi in festa, tre giorni dedicata alle famiglie ma non solo, ci sarà ottimo cibo, ci saranno spettacoli in tutte le tre giornate e ci sarà modo per stare insieme però è una festa anche che possono venire ragazze e tutto, però abbiamo sempre un occhio di riguardo alle famiglie e ai bambini. Infatti per questa festa ci sarà anche un angolo dedicato a loro, si chiamerà il mondo Ugi, verranno su animatori di Ugi e poi alla sera del sabato sera ci sarà questa disco baby con gli speaker di Radio Ugi che loro ci tengono molto ai bambini perché è una radio che serve per poi inserire i ragazzi ancora nel mondo della società perché loro con le terapie diventano un po' chiusi, la radio li aiuta a esprimersi di nuovo. Ci ricordi i giorni di questa festa? Allora 24, 25, 26 maggio che il 26 maggio sarà la giornata che è un po' dedicata alla solidarietà, cioè sarà questo pranzo dell'amicizia, un pranzo veramente bello perché sarà servito da noi volontari in più dai ragazzi dell'Anfas e dal Dottor Clown, sarà una giornata dedicata a loro e insomma è un po' questo sogno che si realizza di questo ristorante solidale. E continuiamo a parlare di eventi perché al via da domani 24 maggio con la Dance Tribute Band Malamente è il programma Estate a Pallanza in piazza Garibaldi, una serie di serate di musica live con band ma anche con DJ che proseguiranno fino al 27 di luglio con appuntamenti anche nella Ruga, in piazza Pedroni e nelle vie Limitrofe. Per i mesi di maggio, giugno e luglio come sarà l'estate a Pallanza? Ma l'estate a Pallanza siamo andati a riprendere un pochino quella che era l'organizzazione dello scorso anno cercando di aggiungere un qualcosina di nuovo, purtroppo quest'anno non ci sarà il JET perché non siamo riusciti ad andare d'accordo con le date a causa dei loro impegni internazionali però abbiamo cercato di mettere una programmazione stando comunque in una cifra ragionata perché, ripeto, niente era scontato in quanto l'amministrazione a fine mandato ma comunque siamo riusciti ad ottenere qualcosa e a dare e comunque garantire una parte dell'estate a Verbania a Pallanza soprattutto. Perfetto, al centro di tutto il lungolago di piazza Garibaldi ma con escursioni anche verso l'arena e verso altre vie e piazze soprattutto nella frazione di Pallanza? Assolutissimamente sì, il fulcro sarà il lungolago di Pallanza ci saranno due serate invece durante la settimana dove suoneranno più band sia sul lungolago di Pallanza che sulla piazza Pedroni e nelle vie limitrofe principalmente la ruga di Pallanza che è la via d'accesso pedonale fondamentalmente della frazione ci sarà un intermezzo che sarà la festa delle scuole voluta dal comune che invita tutti gli istituti di Verbania a poter partecipare dove ci sarà un'animazione live e successivamente apriranno la serata i DJ di Verbania e ci sarà un DJ internazionale. 90 bambini in scena con gli attori e i cantanti della compagnia 20 Lucenti di Firenze domani sera, venerdì al Teatro Maggiore di Verbania nella Principessa di Gelo, riduzione della Turandò di Puccini siamo andati alle prove generali. Bambini alla scoperta del Teatro e dell'Opera Lirica grazie al progetto che ha coinvolto le scuole primarie Bascele e Tommasetti di Verbania con la compagnia 20 Lucenti che domani, venerdì 24 maggio porteranno in scena la Principessa di Gelo al Teatro Maggiore di Verbania con inizio alle 21. Un lavoro impegnativo che ha permesso ai bimbi e alle loro insegnanti di vivere un'esperienza unica con lo scopo di avvicinarli alla musica e all'arte. È un'esperienza che noi portiamo avanti da tanti anni in tante città d'Italia è un progetto nel quale crediamo tantissimo di avvicinamento alla lirica e di formazione del nuovo pubblico e quest'anno a Verbania portiamo la Turandò in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini abbiamo in palcoscenico circa 90 bambini, alunni della scuola primaria Bascele della scuola primaria Tommazzetti sono in palcoscenico con le loro insegnanti è una cosa che ci fa tantissimo piacere perché le insegnanti e i bimbi sono l'anima di questo progetto insieme a loro ci sono attori professionisti della compagnia 20 Lucenti ci sono cantanti lirici professionisti la riduzione è per pianoforte e i bambini sono diretti dal maestro Giuseppe Lamalfa e la regia di Manu Lalli della compagnia 20 Lucenti Com'è andata? È stato un lavoro di mesi di preparazione? Sì, noi siamo una compagnia di Firenze che appunto ci occupiamo di formazione e nei mesi precedenti alla data di domani che sarà il debutto dello spettacolo siamo venuti qua a lavorare a scuola per formare i bambini vocalmente e scenicamente facendo incontri nelle palestre lavorando nei contesti scolastici per poi essere ospitati dal Teatro Il Maggiore e quindi sono due giorni che facciamo le prove qua negli spazi teatrali Ora siamo al consueto appuntamento del giovedì con la Fondazione Comunitaria del VCO e allora vi parliamo di un progetto lanciato dal Kivanis Club a Domodossola con Alternativa A È il Kivanis Club di Domodossola la prima associazione a sostenere il progetto Sport e Inclusione ideato dalla realtà cusiana Alternativa A l'annuncio in una serata tenutasi all'Hotel Corona di Domodossola alla presenza di numerosi ospiti tra cui il presidente della Fondazione Comunitaria VCO Maurizio De Paoli e il campione di sci Massimiliano Belardone ambasciatore del progetto Il progetto consiste nel supportare economicamente l'intervento a favore di alcune famiglie bisognose del Cusio che non sono nelle condizioni economiche di iscrivere i propri figli a scuola e siccome noi la nostra mission è focalizzata molto sul mondo dell'infanzia e dei bambini abbiamo deciso di aiutare le famiglie a poter permettere ai propri figli di fare sport perché oggi i bambini si muovono poco sono dipendenti dai telefonini tendono a fare molto meno sport rispetto al passato e quindi sviluppano delle patologie anche di obesità per cui è una forma anche di attenzione e di prevenzione in questo senso Il progetto di Alternativa A che è stato promosso da due anni nel territorio dell'Alto Cusio è sport e inclusione è un progetto che si propone di garantire il diritto allo sport ai bambini e alle bambine, ai ragazzini e alle ragazzine che per vari motivi non possono esercitare questo diritto noi da due anni sul territorio di Omegna ed Intorno facciamo un censimento dei bisogni cioè intercettiamo i bisogni dei minori e delle loro famiglie e poi a partire da questi organizziamo da un lato diversi momenti e diverse attività finalizzate alla raccolta di fondi per coprire le spese legate alla iscrizione alle certificazioni mediche, alle attrezzature tecniche anche grazie alla collaborazione con le società sportive e nell'attivare una rete di volontari e di volontari in grado di accompagnare questi bambini e questi bambini a fare sport e a fare gli allenamenti settimanali All'interno di questa situazione ci sono bambini circa dai 6 ai 15 anni che hanno difficoltà nel praticare sport e questo secondo me è un motivo per cui aiutare questi bambini attraverso appunto associazioni che si riescono e si permettono appunto di poter aiutare il prossimo Eblardone ci introduce a parlare di sport, il volley perché Volley Novara Alziora festeggia la promozione della squadra di prima divisione in Serie D Apoteosi Alziora Verbagna sempre più volley city che la pallavolo zonale sia nata proprio nel capoluogo con l'opera del professor Lorenzo De Felici e di Adolfo Bonfantini da fine anni 60 è ormai dogma ma la stagione del sodalizio maschile lacuale è stata davvero importante Ai playoff raggiunti in Serie C dalla prima squadra ai titoli e poti territoriali delle giovanili si è aggiunta domenica in un palamanzini gremito la promozione della formazione che ha giocato in prima divisione nel campionato regionale di Serie D Enrico Bertarelli e Cesare Oliva hanno guidato un gruppo frizzante e unito che magari pur molto talentuoso non aveva in mente propositi di promozione ad inizio anno ma che alla fine si è trovato promosso di giustezza il girono iniziale ha visto i lacuali vincere con solo tre sconfitte su 12 gare e con tre punti di vantaggio su Nuova Elva Ocimiano e sei su Volley Novara Ticino Group nelle semifinali tra le migliori dei gironi Dalou e Battistini, Rebecki, Paolino e compagni hanno liquidato Vercelli con un doppio 3-0 in finale il gruppo verbanese ritrova Volley Novara Ticino Group retrocessa la scorsa stagione gara 1 alla fornara di Novara si è chiusa con il successo dei verbanesi per 3-1 22-25, 18-25, 25-17, 17-25 gara 2 non ha avuto senso e davanti ad un grande pubblico è finita 3-0 25-18, 25-17, 25-19 dunque Alziora promossa due diritti regionali al maschile ed uno al femminile visto che nella prossima stagione Alziora e Rosa Alziora torneranno ad essere cosa unica pur mantenendo due marchi sì, a Verbagna si può ancora parlare di pallavolo e sarebbe bene che lo capisca anche chi di dovere ora invece il calcio CSI siamo ormai quasi alle battute finali per quanto riguarda la stagione del calcio CSI nei play-off è infatti ormai definito il quadro delle semifinali mentre il prossimo weekend nel torneo post-campionato Open B andrà già in scena addirittura la finalissima partendo dal ritorno dei quarti play-off grande prova di forza della Sverbani a Regno di Napoli che dopo la vittoria di misura per 3-2 dell'andata in casa si impone addirittura per 11-3 contro l'Alpe Sogno risultato più equilibrato è il 3-3 tra Premi e Ufob con gli ospiti che però non avevano certo bisogno di forzare visto il 7-0 rifilato agli avversari nel turno d'andata 2-1 invece tra Santino e Pallanzeno con i secondi che passano comunque il turno in virtù del 4-2 dell'andata mentre termina per 2-1 stesso risultato della prima sfida il match tra Arizzano e Via Briona-Domo Pallanzeno-Arizzano e Ufob e la Sverbania saranno dunque gli accoppiamenti da cui usciranno le due finaliste semifinali già disputate invece nel torneo post-campionato gara tiratissima tra Paolo Nostresa e Quarna con i secondi che riescono infine a spuntarla per 5-4 Oldomegna CSI-Rio Cannero è invece terminata con un netto 5-2 in favore dei Cusiani in base a questi risultati vorranno in finale Quarna e Oldomegna CSI nel calcio a 5 infine è il Divin Porcello a laurearsi campione provinciale 2023-2024 superando per 9-8 il Real Cutrone in una finale tiratissima terminata soltanto ai calci di rigore dopo il 3-3 al termine dei tempi supplementari saranno quindi il Divin Porcello e il Blackbird Bar secondo classificato nella classifica Fair Play a rappresentare il comitato nella fase regionale è tutto, grazie e buona serata